La nostra avventura per la Coppa Rimè cominciò in una fredda giornata a Genova, 5 novembre 1964. Il primo incontro delle qualificazioni per il mondiale inglese si disputa a Genova contro la Finlandia. Il commissario tecnico Edmondo Fabri vara una nazionale meneghina con dieci giocatori suddivisi tra Inter e Milan, unica eccezione il bolognese Bulgarelli. Corner dalla destra, Corso passa a Mora, tiro ribattuto e Facchetti si avventa con un destro imparabile. 1-0 ed è solo il primo minuto. Meglio di così non si può iniziare. Ottavo, Corso fugge sulla sinistra e mette al centro. Rivera e Mazzola sono pronti per la deviazione vincente, ma Onquist anticipa entrambi e devia la sfera nella propria porta. 2-0. Rivera con la fascia da capitano scocca un bolide all'incrocio dei pali di rara precisione. 3-0. Gara chiusa dopo appena un quarto d'ora. Secondo tempo. La nazionale riprende a macinare gioco. Halme respinge il diagonale di Mazzola. Bulgarelli lo corregge in rete. L'attaccante interista si rifà nel finale con una doppietta. Il suo secondo exploit è un autentico capolavoro che impreziosisce la goleada. Italia batte Finlandia 6-1. Finlandia-Italia viene vista sugli schermi italiani indifferita. Nando Martellini anticipa il risultato. Il primo gol si è fatto attendere 33 minuti ed è arrivato sul calcio di punizione. Il secondo è stato segnato a 12 minuti dalla fine. Soprattutto quella in Finlandia è una partita, giochiamo in un periodo in cui non c'è la notte. E quindi è un'esperienza indimenticabile. Fa piuttosto caldo, si gioca in una strana luce irreale dell'estate polare. L'arbitro concede un calcio di punizione dal limite. Non c'è Corso in squadra, ma Mazzola, suo compagno di squadra dell'Inter, fa partire un tiro ad effetto che porta in vantaggio l'Italia. È il trentatreesimo minuto del primo tempo. Finlandia 0-1. Mora, Bulgarelli. Cross, il portiere non ci arriva e Mazzola finalmente segna il raddoppio che ci dà la sicurezza. 2-0, quindi al trentatreesimo del secondo tempo. La nazionale di calcio azzurra è tornata quindi a Coverciano per l'ultima fase della preparazione ai mondiali, per l'incontro di mercoledì con il Messico e per definire la rosa dei 22 atleti che andranno in Inghilterra. Coverciano, ultimi giorni di preparativi della nazionale prima della partenza per l'Inghilterra. Ci sono dei giocatori che per il momento sono incerti per la loro utilizzazione, quindi in questi giorni vedremo un po' se potremo utilizzarli o meno. Il rapporto tra Fabri e la critica non è dei più semplici. Il commissario tecnico apprezza ben poco consigli interessati che provengono da più parti. Edmondo Fabri era un tipo da capire anche, era una persona molto irascibile, molto buona, molto rispettosa e molto intendetrice. Era un grande tecnico, a mio parere grandissimo. Mi propongo sempre nel lavoro di preparazione una buona partita e ancora delle indicazioni valide ed utili. La nazionale italiana guidata da Edmondo Fabri è stata una delle nazionali che ha proposto un gioco più scintillante, più brillante, anche in considerazione del fatto che c'erano giocatori di grande, grande qualità. Noi arriviamo al mondiale con una serie di partite veramente eccezionali. Eravamo favoriti perché avevamo fatto un precampionato del mondo veramente eccezionale. Avevamo vinto tutte le partite che c'era. Intorno a quella nazionale c'era una grande aspettativa. La nazionale italiana giocava il più bel calcio del mondo in quel momento. Si va in Inghilterra, è evidente la prima partita è il Cile. Ci portiamo dietro una atroce sconfitta che era stata quella del Cile del precedente campionato del mondo del 62. C'è una grande voglia di rivincita, ma soprattutto c'è la voglia di vincere perché vincendo pensi che poi dopo la strada diventa in discesa. Gli azzurri scattano dai blocchi di partenza col piede giusto e al nono minuto Mazzola sblocca già il risultato. Quando io faccio gol capiamo che la partita è abbordabile. Ci pensa Barison a rendere più netto il divario. 2-0 in Cile, 2-0 in Inghilterra. Ma stavolta le parti sono invertite. Non giochiamo benissimo ma vinciamo la partita. Normalmente ai campionati del mondo quando vinci la prima partita sei quasi qualificato. Fabri nello spogliatoio al circuito chiuso dice che se continuiamo a giocare così possiamo tornare a casa. Se noi giochiamo sempre così non vinciamo niente. Ma squadra che vince dice con tale non si tocca. Quando lui disse queste cose nel Pullman noi ci guardavamo come sta scherzando o dice sul serio. Nasce evidentemente la rivoluzione che Fabri vuol fare per andare contro l'altra partita che è quella contro la Russia. Predizione sul serio. Ed eccoci a Italia Unione Sovietica, l'incontro più atteso tra quelli in programma a Sunderland. Fabri cambia formazione, inserisce Leoncini, sposta Lodetti all'attacco e esclude Rivera. Perani è sostituito da Meroni, Barison da Pascutti. Si ha l'impressione che gli azzurri puntino al pareggio. Mette Pascutti che non aveva messo, mette eventualmente il Meroni che non aveva messo, cambia la difesa. Insomma, fa una specie di rivoluzione e voleva modificare l'assetto. Non conosciamo l'avversario, sappiamo solo chi ha vinto un europeo, che giocano molto di forza fisica. Siamo superati sul piano atletico e non riusciamo a creare manovre valide in attacco. Probabilmente c'è anche un errore dell'allenatore che ce li racconta forse più forti di quello che sono. E questo ci fa andare in campo non convinti delle nostre possibilità. Inevitabilmente giunge il gol dei sovietici. È il tredicesimo del secondo tempo. Segna Cislenko. Il gol di Cislenko è stato, tra l'altro, anche un bel gol. Perché è venuto giù sulla fascia destra, ha trovato di fronte Facchetti, l'ha dribblato. Poi con un destro me l'ha messo l'incrocio dei pali dall'altra parte e non ci sono potuta arrivare. Fortunatamente la sconfitta non compromette la qualificazione della nostra squadra, ma sulla prestazione degli azzurri nascono nuove polemiche. La polemica più grossa però è una sola, che giochiamo male. Ma la squadra italiana per me contro la Russia non dipenderà tutto, non saranno tutte colpi della squadra, ma non ha giocato con quel vigore, con quella volontà, con quella forza morale che ci vuole in una competizione di questo livello per poter vincere. La squadra ha giocato all'attacco forse dieci minuti, ha subito il gol e per me da quel momento era già rassegnata, tutta rassegnata alla sconfitta. Questa rivoluzione secondo lui doveva essere tale che gli permettesse di avere risultato, il successo. E questo non è accaduto. Il giorno dopo la sconfitta con l'Unione Sovietica, la nazionale si trova a metà del guado, tra l'analisi sugli errori di Sunderland e i pensieri rivolti a Middlesbrough, dove deve affrontare la Corea del Nord, la squadra materasso del girone, che dopo aver perso con l'Unione Sovietica ha guadagnato un punto in extremis contro il Cile. La relazione dell'osservatore, Ferruccio Valcareggi, qualifica gli atleti coreani come tanti ridolini. Il signor Valcareggi fece una battuta, tornando e riferendo sulla Corea. Dice, sono tutti uguali, corrono tanto, ma sembrano tecnicamente non è che sia un granché. Dopo la prima partita della Corea ci fu detto che erano scarsissimi. Hanno detto che era una squadra di quarta serie. Dopo la seconda partita ci fu detto che erano dei fenomeni. La seconda partita però sono migliorati, ora stanno bene. Ci aveva detto Valcareggi che era una squadra di pellegrini, invece così non era. Non è che fossero ridolini nel senso di incapacità di giocare a calcio, ma che sembravano tante eventualmente marionette, insomma nel senso correvano, 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 insomma non c'era granché. Quando tu sei convinto che un avversario è debole, non è che lo snobbi, però forse da un punto di vista mentale non hai l'approccio giusto alla partita. Alla terza partita, che poi era quella decisiva, un po' di agitazione te l'avevano messa. Quel che è certo è che sono tutti dilettanti. Corea sicura di vincere. L'allenatore Myung Ria Jung. Se l'Italia è quella vista contro Cile e Unione Sovietica, nessun dubbio per noi. Loro sono entrati in campo per il riscaldamento, noi eravamo a fare ginnastica, a fare... Loro invece sono entrati in campo tutti insieme con un pallone a testa, si sono messi a metà campo e poi hanno cominciato a buttare il pallone in alto e a fare delle grandi rovesciate. E noi li abbiamo guardati e ci siamo messi a ridere, diciamo ma chi sono queste? L'Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese vinte, segnaline Adeir, Irlanda del Nord e Taylor, Inghilterra. E noi siamo partiti benissimo, potevamo fare subito tre gol. Perani, grande palto del portiere coreano, l'incambiore. Perani si era trovato da solo davanti al portiere quattro o cinque volte. Rivera, troppo. Mancata di insocchio soltanto la rete. Abbiamo sbagliato tanti di quei gol che è stata una cosa incredibile. Perani, ancora una volta il portiere si è capito felicemente piazzare. Dopo il terzo, il quarto gol che sbagli, cominci a pensare che la partita è stregata. Fabri aveva cambiato quattro o cinque elementi per farli riposare, però aveva fatto giocare Bulgarelli che non erano nelle migliori condizioni. Quando mi hanno detto, guardi, bisogna che tu giochi perché sei indispensabile in questo momento. Io avevo male al ginocchio ed ero capitano della nazionale come fa uno a dire di no. Toccato al ginocchio, quindi vecchio malanno di Bulgarelli che adesso si è aggravato. Se poi la partita si mette male perché si fa male un giocatore e devi giocare in dieci, non ci sono i cambi, a loro va bene tutto, all'improvviso mentre sei in campo li fai molto più grandi di quello che sono. È stata una partita veramente stregata. Fabri era in difficoltà, aveva paura. L'emozione che noi avevamo si cercò di curarla in un certo modo, però ti levava riflessi, ti levava forza. E a quel punto ti ingigantisce tutto questo la figura dell'avversario che hai davanti. Il gol che ha fatto quando c'era in porta, Pak Do-Hik, che mi hanno detto quando in Corea era un dentista, se quello ero un dentista io sono il padre eterno. E a quel punto succede il patatrac. Il mio parere, oggi a distanza di tempo, dico che lì si è perso la tramontana. 5, 6, 7 occasioni da golle e non siamo riusciti a fare neanche uno. Sono partite che se le rigiochi 100 volte... ...perdi una, perché veramente bastava anche un pareggio. È una cosa incredibile essere eliminati così. 99 le vince. Purtroppo quella partita lì l'abbiamo persa. L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè. Ritorniamo a casa dopo una sconfitta in vero stasera immeritata. Italia e Brasile fuori. Gli azzurri, un'ora in dieci, clamorosamente battuti. Fabri, la colpa è soltanto mia. Franchi, non parliamo di sfortuna. Fabri, non ho nulla da rimproverare alla squadra. L'Italia, due punti e due gol, torna a casa. La Corea rappresenta il punto più basso della storia della nazionale. Occorre una sterzata coraggiosa, un cambiamento deciso. Ferruccio Valcareggi sarà il nuovo commissario tecnico di un'epoca nuova che si annuncia decisamente diversa già nel 1968 con il trionfo ai campionati europei organizzati in Italia. Spinta dai gol di Gigi Riva e dalla consacrazione del genio di Gianni Rivera e Sandro Mazzola, la nazionale è pronta per il mondiale messicano, uno dei più belli della storia. Guattano. Grazie a tutti. Grazie a tutti.